La Prologo di Nocciano presenta questa bella iniziativa qua alla Zampa. Chiara Fusilli, di cosa si tratta? È una fiera di sensibilizzazione all'utilità sociale degli animali e dalla cura e rispetto di essi. In pratica parteciperanno alla manifestazione diverse associazioni che coaduvano la loro attività con l'ausilio di animali e daranno la possibilità a tutti gli intervenuti di avere un contatto diretto con gli animali ed inoltre di poter vedere esibizioni delle loro attività. Quindi spazieremo dalle api ai cani da soccorso in acqua, ai cani della polizia di Stato con simulazione con i cani antidroga, agli asini per l'onoterapia, cavalli da ipoterapia, si svolgeranno dei giochi, gioco dell'oca vivente per i bambini per dare nozioni di zontropologia. Inoltre al castello ci sarà una conferenza con veterinari e psicoterapeuti che tratteranno proprio il tema del valore degli animali nelle nostre attività sociali. Il tutto è inserito in un contesto fieristico più ampio con stand gastronomici, ambulanti per poter passare l'intera giornata in allegria. La manifestazione si svolgerà presso le vie del centro storico di Nocciano. Quando? Il 21 settembre a Nocciano per l'intera giornata.